Cambiamenti climatici, erosione, fruizione turistica e pressione insediativa stanno incidendo in maniera pesante su uno degli ecosistemi più preziosi e delicati della nostra penisola, quello delle aree costiere italiane. Di possibili soluzioni impraticabili si parlerà all'Aurum di Pescara il 6 e il 7 ottobri prossimi, nel corso della seconda conferenza internazionale dei paesaggi costieri Coste in Movimento, curata da Lega Ambiente, dall'Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani e dal Dipartimento di Architettura e dal corso di laurea in Scienze dell'Habitat Sostenibile dell'Università d'Annunzio di Pescara. Alcuni dei temi che saranno oggetto di dibattito sono stati affrontati durante la presentazione dell'evento in conferenza stampa. Silvia Tauro, referente di Youth for Planet di Lega Ambiente Abruzzo, cos'è l'Osservatorio dei Paesaggi Costieri e perché è nato? L'Osservatorio Paesaggi Costieri è nato all'interno di Lega Ambiente stringendo una rete di collaborazione scientifica con una rete di atenei italiani, tra cui quello di Pescara e enti di ricerca, proprio per continuare ad attenzionare da vicino lo stato delle nostre coste. Tra cambiamenti climatici, erosione, consumo di suolo, l'impatto del turismo sempre meno sostenibile, la pressione insediativa che si spinge sulle nostre coste, è necessario assolutamente tenere in alta l'attenzione ed elaborare dei nuovi criteri di progettazione che possano quindi porre rimedio e dare una visione futuribile di quelle che sono le nostre coste. Perché ci impone di andare in questa direzione proprio anche il discorso legato ai cambiamenti climatici? Gridare ogni volta all'emergenza è un errore. Questa è una situazione che stiamo fronteggiando ormai da tantissimi anni e non si può risvegliare l'attenzione solamente quando ci sono eventi estremi con conseguenze fatali. Noi è proprio questo che vogliamo fare, tenere alte l'attenzione per evitare che le emergenze si ripropongano con costanza. E questo si può fare solo con un nuovo rapporto con il territorio e in particolare nel nostro caso con gli ambienti costieri. Michele Manigrasso, ricercatore in urbanistica del Dipartimento di Architettura dell'Università d'Annunzio di Pescara. Discuteremo delle condizioni di salute delle coste abruzzesi, in particolar modo tratteremo il tema dell'erosione che è un fenomeno in forte accelerazione negli ultimi anni. Nel 90 avevamo 35 km di coste in erosione, nel 2018 addirittura 82 km, quindi il 63% delle coste abruzzesi sono in erosione. Quindi ci preoccuperemo di capire quali sono le modalità operative, progettuali più corrette per l'adattamento al clima che cambia. Com'è che si può invertire la rotta? Lavorando a progetti morbidi. Le coste sono purtroppo attenzionate da una progettualità di infrastrutture rigide che invece di mitigare il fenomeno lo implementano, lo rendono ancora più importante, più acuto. Ecco, deve cambiare la cultura progettuale nello spazio terra-mare proprio per consentire alla natura un dialogo differente con la costa.